Bene amici di H.D.Cionchi, eccoci qui con il telefono che va a zuccate! Ecco, come potete vedere è uno zucca, quindi sempre zuccate! Dice anche di essere un po' l'ovo, però vabbè, cercheremo di farcene una ragione. Qui abbiamo un'aletta sblusciante, e apriamo, come vedete anche qui viene riportato che il telefono è uno zuccone, quindi cercheremo di evitarlo ulteriormente, anche perché se no la mia testa potrebbe avere dei problemi. Qui abbiamo il dispositivo, come vedete è un padello di un certo livello, come potete notare ha quattro lati, cosa non così scontata al giorno d'oggi in un telefono, ha dei pulsanti, che potrebbero anche servire, un tastone, detto anche tastone, e tanti tanti bei buchetti! Sono belli, eh? Lo sapevo che sono belli! Per il resto abbiamo un buchettone qui sopra, dei segnetti qui sopra, dei segnetti qui sotto, e appunto i nostri amati buchetti. Controlliamo il resto della confezione, nel frattempo ignorate i suoni che sentite, essendo essi delle notifiche non provenienti dallo zuccone. Abbiamo una chiavata, abbiamo un caricacoso, vediamo, analizziamo il pre-dat, c'è una porta UBS, tra l'altro è anche quello giusto, vediamo la potenza, le performance, bene, bene, ah, notare, è un caricabatterie, zuccone, bisogna anche, bisogna cambiare marca, perché sennò non c'era a venirmi mal di testa se continuiamo così. Qui altro cosa abbiamo invece? Abbiamo, 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 abbiamo un'altra scatoletta bianca, un'altra scatoletta bianca, un cavone, un cavone con il bellissimo USB UBS, tip C, tip C, chiamato come cazzo vi pare, tanto è un cazzo di cavo. Per il resto abbiamo, adesso vediamo anche di richiudere il tutto, che adesso non ci serve relativamente a un cazzo, servirà dopo, per più o meno fra tre o quattro anni quando si esaurirà la batteria di questo coso, perché non si capisce come sono riusciti a mettere uno dei reatori rimasti buoni di Chernobyl qui dentro. Come vedete il coso è già acceso, si sblocca velocemente con l'impronta della dita qua, si sblocca velocemente con l'impronta, vedi che tanto non me la prende, ecco adesso l'ha presa, inoltre, vedete come si blocca anche bene, si sblocca anche con l'impronta della dita qua. Carino eh? Vede, vedete com'è bellino, gira anche le sue cose, e vamo là, abbiamo anche delle applicazioni, guardate come corre tra una e l'altra, e soprattutto abbiamo Space Team, ragazzi abbiamo Space Team, quindi tenetene conto. Come notate non ci sono applicazioni per autistici sotto la lettera I, quindi fottetevi voi e chi non ve lo dice. Adesso procederemo con calma allo sblocco di queste cose chiamate Simscard, dei due maggiori operatori di stelefonia in questo paese di merda, dopodiché vedrò di togliere dalla plasticaccia sto cazzo di padello del cacchio, che è acceso da ore ed è sceso dell'1%, vabbè che non ce la sim dentro, però porco due. Direi che a questo punto salutiamo le coccinelle, che ci salutano anche loro, e salutiamo con un'altra zuccata il nostro Zuc. Ciao amici, andate a fanculo, e soprattutto occhio all'impronta della minchia. Ciao amici, andate a fanculo.